L'orientamento al paziente è fondamentale, per quello noi facciamo queste lezioni, per orientare il paziente a una scelta consapevole che il dentista non sta lì a fregarlo, gli sta mettendo le cose giuste per la sua bocca lì dentro, però chiaramente il paziente è molto prevenuto da 40 anni di soldi spesi, lavori fatti male, di ascessi, dolori, che dice ora me lo scelgo io quello che devo fare, non è proprio così. Il problema si è avuto in passato perché si facevano i lavori o a metà oppure la diagnosi che veniva fatta era condizionata in base a quello che uno poteva spendere, ok allora fagli questo, può spendere quello, però quello è il modo più sbagliato, va fatto prima di tutto togliendo il listino prezzi, quello che va fatto, poi se non lo puoi fare aspetti, ma fai quello che va fatto in maniera corretta, dopo un anno, due anni, abbiamo molti pazienti che vengono, magari fanno la visita, la cosa è completamente diversa perché abbiamo fatto la visita, la diagnosi, visto tanti parametri, le gengive non si vedono in radiografia, non vedi se fa male un dente, non vedi se il dente si muove, la radiografia è statica, l'ho fatta vedere, la radiografia non vedi tantissime informazioni che poi sono determinanti, non vedi neanche questo in radiografia, cioè dove sta la mandibola e dove sta la mascella, abbiamo casi dove la mandibola è così, a scucchia, c'è la scucchietta e va anche un paio di centimetri avanti, dove puoi fare solo protesi mobile sopra, rimovibile, neanche fissa, la radiografia non vedi tantissime cose che poi sono determinanti, eccola qua, radiografia vedi solamente i tessuti duri e quello che è radio opaco, quindi il titanio, non vedi invece la lingua, non vedi i vasi sanguigni, appena appena percepisci dove passa il nervo, ma poi i nervi ne abbiamo anche qua, i nervi ne abbiamo qui su, abbiamo da vedere esattamente quanta dimensione c'è tra questa arcata e questa e questa è una foto bidimensionale, cioè la mandibola, in realtà la bocca è tridimensionale, io faccio una fotografia girandoti attorno e poi la apro, distorsione del 70%, che pianificazione puoi fare su una distorsione? Non puoi vedere, delle volte sembra che i denti sopra sono pari con quelli sotto, ma in realtà se vai poi a chiudere, fai l'attacca, i denti sopra stanno avanti, quelli sotto, i finali sono indietro, però in radiografia erano pari perché quando mordi la mandibola va avanti, per mordere il pirulino che ha il radiografico, quindi è anche spostata in radiografia, dopo che si parla col paziente, si guarda anche l'aspettativa di vita del paziente, le abitudini viziate, ci sono protesi che devono durare 40 anni, protesi che devono durare, se va bene 10 anni, 15 anni, cambia completamente anche la scelta dei materiali, non vado a fare su un paziente magari di 75-80 anni, una doppia, zirconio, titanio, pecton, tante cose perché è una bocca sicuramente scoordinata quella, scoordinatissima, non avrebbe un vantaggio ma sarebbe uno svantaggio in realtà, perché si troverebbe poi a fare assistenza, after care, con i denti roti, meglio mettere qualcosa di semplificato in bocca, che è più facile anche da mantenere, se ti trema la mano così è difficile che tu vai col filo a pulire, devi creare un tipo di protesi, delle volte anche che si stacca, che la pulisce così, non così, con uno spazzolone grande che vendono in farmacia, stacchi, rimane solo la barra che lucida con lo spazzolino così e poi lucida la protesi così, clac, della forte che non si stacca, deve fare forza per toglierla e quindi è una semifissa quella, quelli pazienti anziani per esempio.